Cosa vendono a Conad in Albania. Questi sono proprio bellini, molto bellini, anche la pizza è molto buona, questo è un buonissimo età, birrette, 3 euro. San Pedegrino, è come andare in Italia a stericarda, tutto italiano, tutto, parmala. C'è anche le piadine, ovviamente è come andare nel supermercato italiano, ovviamente. Panangeli. Non c'è il magnum che dico io, questo è uno scandal della bandiera di Albania.